Musica Paura per gli incendi in provincia di Trapani. Ieri chiuso per alcune ore l'aeroporto di Birgi. A Mazzara evacuate diverse famiglie. Nuovo caso di West Nile a Trapani. Grave un 54enne ricoverato al cervello di Palermo. Olio e olive da colture sostenibili. Nasce il club degli agricoltori della Valle del Belice. Sport Coppa Italia di eccellenza. Ieri il derby tra US Mazzara 46 e USD Mazzara. Vittoria dei canarini di mister Abbenati per 3 a 2. Domenica prossima il ritorno. Ben ritrovati cari telespettatori. Buon inizio di settimana per questa nuova edizione del Tg8. Informazione sul canale 117. In streaming sulle nostre pagine social. Ieri allerta rossa in tutta la Sicilia per il rischio incendi che hanno devastato anche la provincia di Trapani. Paura ed evacuazione in diverse città. Ieri è stato anche chiuso per diverse ore. L'aeroporto di Trapani Birgi. Ascoltiamo. Ancora incendi e disagi in Sicilia sferzata fin dal primo pomeriggio di ieri da un forte vento di scirocco. Il fuoco divampato in un vallone ha portato alla chiusura dell'aeroporto di Trapani. Alcuni voli sono stati dirottati da Trapani a Palermo. Dalle 19.30 di ieri l'aeroporto di Trapani Birgi è tornato operativo. Pertanto i voli restanti sono stati operati regolarmente. In azione Canadair, elicotteri e personale via terra dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile regionale. Nell'aeroporto di Trapani alle operazioni di spegnimento partecipano anche mezzi antincendio militari del 37esimo stormo, compreso un elicottero dell'82esimo Xar dell'aeronautica. Un rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la tonnara di Scopello. Circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Il fuoco, spinto dal vento, ha minacciato le villette della zona e per precauzione gli occupanti sono stati invitati ad andare via. Fiamme anche vicino alla tonnara, dove i bagnanti sono stati sorpresi dal fumo e poi messi in salvo dal mare. Decine di bagnanti sono bloccati con le proprie auto alle pendici del Monte Cofano sul versante di San Vitolo Capo, dove è in corso un vasto incendio. Un incendio divampato ieri mattina ad Alcamo, complice il forte vento di Scirocco e l'alta temperatura nei pressi di Corso dei Mille, alla periferia della città e l'inizio della Provinciale 55. Le fiamme hanno lambito le abitazioni e stanno coinvolgendo anche diverse aziende che si trovano nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo Forestale per le operazioni di spegnimento. Molte persone che sono state evacuate per precauzione dalle proprie abitazioni. Seguo da vicino l'evolversi della situazione incendi che sta interessando la nostra Regione. Sono in continuo contatto con la Protezione Civile Regionale e Nazionale, nonché con il Dipartimento Corpo Forestale della Regione Siciliana. Lo dice Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana. Anche questa volta la nostra terra è messa a dura prova da mano criminali che si stanno macchiando di efferate condotte e il sistema sta reggendo, conclude Schifani. E di questo mi sento di ringraziare di cuore tutti gli uomini e donne di qualunque ruolo e istituzione che stanno dando prova di grandissimo senso del dovere e amore della nostra Sicilia. Notte di paura nel Palermitano dopo decine di incendi divampati nel corso dell'ultima domenica di agosto. Nel corso della notte la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono stati impegnati su diversi fronti di fuoco alimentati da un forte vento di scirocco. I roghi che in alcuni casi hanno minacciato case e attività commerciali hanno provocato l'interruzione dei principali assi viari. Turisti e vacanzieri hanno impiegato ore per raggiungere Palermo. Un incendio è divampato anche sulla Palermo Mazzara del Vallo costringendo gli automobilisti a uscire allo svincolo di Balestrate e percorrere dalla Statale fino a Partinico. Fiamme anche lungo la Palermo Agrigento nella zona artigianale di Villa Abate. Roghi anche sulla Palermo Sciacca e nella zona di San Giuseppe Iato. Anche qui sono state impegnate per diverse ore le squadre antincendio. Ma anche a Mazzara del Vallo vi è paura per gli incendi che fino a questa notte hanno distrutto ettari di terreno e l'ambito diverse abitazioni con alcune famiglie che sono anche state costrette a lasciare le proprie abitazioni. Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco della città, il dottor Salvatore Quinci, e ascoltiamo la sua dichiarazione. E sì, ieri Mazzara, come tutto il territorio di Trapani, ma in realtà della Sicilia, è stata interessata da una serie di incendi. Purtroppo la temperatura e il vento favorevole hanno favorito lo svilupparsi di questi incendi che hanno interessato praticamente tutto l'arco della giornata a partire dal primo pomeriggio, cioè dalle ore più calde. Prima un incendio incontrato a Miragliano, poi nel pomeriggio un incendio incontrato a Boccarena in via del Fenicottero e via Greppio e infine in via dell'Unità Europea, quasi all'incrocio con la via Lozzano. In tutte queste situazioni si è verificato l'incendio di terreni che erano stati lasciati incolti dai proprietari, nonostante la mia ordinanza che imponeva ai proprietari dei terreni di bonificare l'aria proprio al fine di prevenire queste situazioni. Per fortuna non ci sono stati danni a persone e a cose, ma diverse famiglie in via precauzionale hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni fin quando gli incendi non sono stati tutti spenti. E l'altra cosa che abbiamo dovuto registrare, purtroppo, da una parte, è che il comando dei vigili del fuoco non è potuto intervenire, perché si era spostato in maniera emergenziale e con tutte le proprie risorse nella zona di Scopello, dove un incendio di vastissime proporzioni è molto pericoloso, ha interessato quell'area. Per cui si è potuto risolvere queste situazioni grazie all'intervento dei volontari. Io li voglio ricordare tutti, l'Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo, l'Associazione di Protezione Civile Prinacria, spero di non dimenticarne altri, e grazie all'aiuto dei tanti cittadini che sono intervenuti, chi mettendo a disposizione il proprio pozzo, chi dandosi da fare per circoscrivere le aree e delimitare le aree e quindi mettere al sicuro i nostri concittadini. E soprattutto grazie anche al personale del comune di Marzana del Vallo che è intervenuto con le autobotti fornendo un servizio che non è proprio di competenza nostra, quindi in qualche modo un servizio che non può essere adeguato come quelli dei vigili del fuoco, che sono quelli titolati a spegnere gli incendi. Il comune ha la sua struttura di protezione civile, ha la sua struttura per le emergenze idriche, ma non interviene certo in caso di incendi. Bene, devo dire che siamo stati fortunati, però rimane quindi da una parte il plauso per tutti i volontari che si sono sostituiti al corpo dei vigili del fuoco che erano impegnati in situazioni ben più gravi, ma d'altra parte rimane l'amarezza perché le ordinanze per bonificare i terreni non sono fatte così solo per una formalità, ma perché hanno proprio uno scopo di prevenire situazioni come queste che avrebbero potuto mettere a rischio anche l'incolumità delle persone, tant'è che alcune famiglie residenti in abitazioni prossime all'area oggetto dell'incendio sono dovute uscire via di casa, in via precauzionale, e attendere la fine e lo spegnimento totale degli incendi. Nel territorio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria prosegue l'attività di sorveglianza svolta dai carabinieri forestali per la tutela del patrimonio naturalistico. I carabinieri in servizio sull'isola di Pantelleria impegnati in servizi di prelustrazione si accorgevano della presenza di un focolaio all'interno di un fondo privato sito in contrata Sibà, alimentato dal proprietario intento nell'opera di combustione dei residui vegetali provenienti dal proprio fondo. A carico dell'uomo che avrebbe acceso il fuoco in completa violazione della normativa di settore, ovvero in periodo di divieto e tra l'altro senza osservare l'obbligo di distanza minima da edifici, case e strade, veniva combinata una sanzione di oltre 1000 euro atteso il potenziale pericolo per la pubblica incolumità. I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata hanno ritrovato una minorenne che da alcuni giorni si era allontanata dalla sua abitazione in Belgio dalla quale la madre aveva denunciato la sua scomparsa. La famiglia, originaria di Trapani e residente in Belgio, dopo la scomparsa della ragazza ha subito attivato le ricerche non tralasciando la possibilità che la minorenne sarebbe potuta giungere a Trapani visto che per lei è un posto conosciuto e dove avrebbe potuto trovare l'appoggio di qualche parente o amico. A seguito delle ricerche durate tre giorni i carabinieri, unitamente allo zio che disperato si era rivolto a loro, l'hanno rintracciata nel centro storico di Trapani nei pressi di Lazzaretto. Costanti sono le buone condizioni di salute e dopo aver avvisato i genitori la giovane è stata affidata allo zio materno in attesa dell'arrivo dal Belgio della sua famiglia. Continuiamo con la cronaca e l'aggravamento di misura cautelare per un minorenne di Trapani che è stato trasferito in una comunità. Ascoltiamo. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare messa dal Tribunale per i minorenni di Palermo un ragazzo che è stato collocato in comunità. Il giovane era stato arrestato lo scorso mese di luglio dai carabinieri che durante il controllo dei soggetti sottoposti a misure cautelari lo avevano sorpreso nascosto all'interno di un locale caldaia pertinente all'immobile mentre confezionava sostanza stupefacente. In quell'occasione secondo i carabinieri il minorenne era stato trovato in possesso di circa 30 grammi di crack 25 di hashish e circa 700 euro in banconote di vario taglio e per il ragazzo era stato disposto dall'autorità giudiziaria l'obbligo di permanere a casa dei genitori. I carabinieri pertanto hanno continuato a seguire i movimenti del giovane e ritengono che lo stesso abbia ripetutamente violato le prescrizioni del giudice che valutati gli elementi raccolti dai militari dell'arma ha deciso di disporre la collocazione in comunità. Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della sezione radiomobile di Trapani durante un servizio notturno sono stati chiamati ad intervenire in aiuto ad una donna che alle 3 di notte ha fermato l'equipaggio in centro storico per denunciare la scomparsa del figlio minore e che l'ultima volta l'aveva visto in via Garibaldi. Con in possesso un'accurata descrizione del ragazzo e dei vestiti indossati i carabinieri si mettevano subito alla ricerca coinvolgendo tutte le pattuglie in circuito avendo anche il numero di telefono del cellulare in suo possesso i militari tentavano di contattarlo non ricevendo mai risposta in collaborazione con la centrale operativa si provava a localizzare l'apparecchio e dopo circa 45 minuti rintracciavano il minorenne nei pressi della scuola media Simone Catalano affidandolo alla madre che ringraziava sentitamente i carabinieri. Arrestato per il furto commesso in un bar un pregiudicato al camese in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari Nella tarda mattinata dello scorso 5 agosto personale della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo ha tratto in arresto un pregiudicato di 40 anni l'uomo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari si era reso responsabile del reato di evasione di furto aggravato consumato la notte dello scorso 27 giugno in un noto bar del centro dall'attenta visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio pubblico oggetto dell'azione predatoria e dal sistema di videosorveglianza comunale si è pervenuti all'identificazione del pregiudicato quale autore del furto il pregiudicato al camese già sottoposto a misura cautelare nel decorso mese di luglio è salito agli onori della cronaca giudiziaria per essere evaso per ben due volte nella stessa nottata dal domicilio detentivo giustificando la sua scelta quale atto di esasperazione a seguito di accesi di verbi familiari intervenuti con la moglie valutata la gravità dei fatti il tribunale di Trapani ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella più grave della custodia in carcere una donna di 55 anni sabato scorso a bordo di una Renault Clio ha percorso l'autostrada Palermo Mazzara del Vallo contromano per 10 chilometri tante le telefonate degli automobilisti che si sono visti arrivare l'auto di fronte in autostrada gli agenti della polizia stradale sono riusciti a bloccarla la donna è stata poi ovviamente multata l'episodio è stato segnalato alla prefettura per l'arrevoca della patente la donna stava tornando a casa dopo il turno di notte non si è accorta di aver imboccato l'autostrada contromano che stava percorrendo in direzione Trapani le prime telefonate sono arrivate quando l'automobilista è stata incrociata nelle zone delle gallerie è stata bloccata all'altezza dell'aeroporto di Palermo parliamo di Matteo Messina Denaro il super boss ex latitante non può tornare in carcere e per ora però deve restare in ospedale all'Aquila ascoltiamo anche se le condizioni sono migliorate rimane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore il boss mafioso Matteo Messina Denaro ricoverato dall'8 agosto scorso per il peggioramento dello stato di salute e per essere sottoposto ad intervento chirurgico per una occlusione intestinale che è perfettamente riuscito tutto ciò come emerso da fonti sanitarie e carcerarie in seguito a valutazioni sulle condizioni di salute del boss affetto da un tumore al colon in stadio avanzato che attualmente non sarebbero compatibili con la detenzione in carcere finora per i medici che sono in contatto continuo con le autorità il 61enne ex superlatitante rinchiuso dal 17 gennaio scorso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila necessita ancora di ricovero ospedaliero ma nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito nel reparto per detenuti nello stesso San Salvatore oppure nell'infermeria del carcere la gestione della malattia del boss è centrale in questi giorni la situazione viene continuamente monitorata da istituzioni sanitarie e dello stato soprattutto alla luce di quanto si è appreso infatti era già stato programmato il trasferimento nello spazio con cella realizzato al piano terra al posto della piccola stanza al primo piano utilizzata in passato ma il boss avrebbe manifestato una netta contrarietà con la ipotesi di inscenare addirittura proteste tanto che per ora è stata confermata la permanenza in TI un reparto normale nel quale è sorvegliato a vista da decine di rappresentanti delle forze dell'ordine nelle passate settimane gli avvocati di Matteo Messina Denaro avevano annunciato la presentazione di una istanza di scarcerazione per l'aggravarsi delle condizioni di salute collegate al tumore al colon i carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due persone quarantenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel corso delle perquisizioni in casa degli indagati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno trovato complessivamente 26 chili di marijuana in casa di uno degli indagati sono state trovate 8 buste di un chilo ciascuna nell'altro appartamento 18 buste anche queste con dentro un chilo di marijuana per ciascuna il GIP di Palermo ha convalidato gli arresti disponendo i domiciliari con il braccialetto elettronico entrambi gli indagati percepivano il reddito di cittadinanza e pertanto sono state avviate le procedure per l'immediata sospensione del beneficio ma parliamo di sanità nuovo caso di West Nile a Trapani è grave un 54enne ricoverato al cervello di Palermo il servizio si trova ricoverato in ospedale a Palermo un 54enne trapanese che ha contratto nelle scorse settimane il virus da West Nile l'uomo si tratta di un soggetto fragile come confermano dall'ASP di Trapani nelle scorse settimane ha cominciato ad accusare malessere e febbre molto alta si sarebbe recato anche al pronto soccorso di Trapani ma da lì il successivo ricovero al cervello di Palermo dove l'uomo che ha una pregressa situazione di immunodepressione verserebbe in gravi condizioni la febbre West Nile non si trasmette da persona a persona tramite il contatto con infetti il periodo di incubazione dal momento della puntura della zanzara infetta varia fra 2 e 14 giorni ma può essere anche di 21 giorni nei soggetti con deficit a carico del sistema immunitario dall'ASP di Trapani nel confermare la notizia fanno sapere che non è in atto alcuna emergenza nel territorio trapanese dove pure sono stati registrati in passato alcuni casi isolati di virus West Nile a Marsala e Mazzara del Vallo l'unico invito al momento ai cittadini è quello di mettere in atto semplici misure di prevenzione la febbre West Nile è trasmessa dalle zanzare altri mezzi di infezione documentati anche se molto più rari sono trapianti di organi trasfusioni di sangue e la trasmissione madre feto in gravidanza ma andiamo alle news dal territorio è stato pubblicato nel portale Tutto Gare del comune di Mazzara del Vallo il bando per l'acquisto di una motodraga scusate l'importo a base d'aste è di 900 mila euro le offerte nell'ambito della procedura telematica aperta potranno essere presentate esclusivamente nel portale Tutto Gare entro domenica 10 settembre nell'emore che gli attesi lavori regionali per il dragaggio del fiume Mazzaro entrino nel vivo dopo la realizzazione degli interventi propedeutici affidati effettuati nei pressi della colmata B il comune ha deciso di dotarsi di una propria draga per meglio gestire in futuro i lavori di manutenzione e pulizia dei fondali del fiume l'acquisto di una motodraga è uno dei tre interventi del progetto complessivo finanziato con circa 4 milioni di euro dal Dipartimento Pesca del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare delle Foreste con fondi comunitari sono già stati avviati gli altri due interventi previsti dal progetto la riqualificazione del complesso immobiliare ubicato in piazzetta dello Scalo ex mercato ittico da Dibira a Sala per la vendita all'asta del pescato e i lavori per la ristrutturazione adeguamente e riqualificazione delle infrastrutture portuali e di parti delle banchine a prodi del porto pescareccio di Mazzara del Vallo olio e olivo da colture sostenibili in provincia di Trapani nasce il club degli agricoltori della Valle del Belice ascoltiamo coltivare in modo sostenibile sviluppare linee guida comuni nei trattamenti degli olivi e nella commercializzazione in modo da aiutare a creare un futuro migliore per gli agricoltori della Valle del Belice con questi obiettivi è stato presentato sabato scorso nelle aziende agricole Asaro di Marinella di Selinunte il club degli agricoltori del Belice la prima aggregazione di coltivatori che parte da un'iniziativa dal basso l'idea è partita da Tommaso Asaro delle omonime aziende agricole originario di Partanna la sua famiglia da più di 100 anni esporta olio e olive in America promuovendo il Belice e la tipica cultivar nocellara che si produce solo in questi territori da febbraio l'azienda collabora con Starbucks la catena internazionale di caffetterie fondata Seattle nel 1971 proprio Starbucks ha lanciato le bevande oleato che riuniscono un'inaspettata alchimia di caffè arabica Starbucks infuso con olio extravergine di oliva partanna l'impegno è quello di camminare insieme condividere le scelte e soprattutto adottare metodologie comuni che abbiano una ricaduta sociale di sviluppo per il territorio ha detto Asaro presentando il club degli agricoltori davanti ad oltre 300 produttori la cultivar nocellara del Belice da cui si produce anche l'olio Evo è per noi una risorsa vista l'unicità di produzione come territorio il club ha come obiettivo quello di valorizzarla iniziando da chi la coltiva i punti di forza del club sono qualità sviluppo sociale e produzione nelle scorse settimane si sono svolti diversi incontri con agricoltori produttori e agronomi provenienti dai paesi trappanesi di maggiore produzione partanna castelvetrano campo bello di mazzara santa ninfa sala paruta e poggio reale bisogna eliminare ogni forma di campanilismo solo facendo squadra si può vincere ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sanmartino momenti come questi rappresentano occasioni anche per il governo per migliorare le infrastrutture nella nostra isola la regione è pronta a prendere impegni nel campo della formazione ha aggiunto l'assessore regionale Mimmo Turano a investire laddove necessario nella valle del Belice questa è un'opportunità straordinaria per il territorio questa sera alle ore 21 presso l'atrio del plesso scolastico di Santa Caterina a Mazzara del Vallo verrà proiettato il film documentario nelle scarpe di mio padre il film è stato realizzato con il sostegno della Sicilia Film Commission l'Università Roma 3 e il comune di Mazzara del Vallo che ha coinvolto la comunità mazzarese tunisina presente a Mazzara il documentario nelle scarpe di mio padre il racconto di quel tratto di mare il canale di Sicilia tra immigrazione ed emigrazione tra la Sicilia e la Tunisia alla proiezione saranno presenti il regista i produttori i componenti dell'equipe produttiva l'attore e doppiatore Tony Garrani voce narrante del documentario e l'attore mazzarese Vito Baldini interprete della maschera di Giuffà che insieme al sindaco della città Salvatore Quinci daranno il benvenuto a tutti i partecipanti dell'evento ma a proposito di spettacolo successo di pubblico e tanta allegria Torretta Granitola per la quattordicesima edizione del Carnevale Estivo successo di pubblico per la quattordicesima edizione del Carnevale Estivo a Torretta Granitola tantissime persone sabato sera hanno infatti letteralmente invaso la borgata marinara riempiendo piazze strade e locali e coinvolgendo tutti in un'atmosfera di grande festa la manifestazione è stata promossa dall'amministrazione comunale di Campobello di Mazzara con il patrocinio della regione siciliana e con la collaborazione della Proloco Costa di Cusa ed è l'addetto all'organizzazione degli eventi Nino Centonze la parata ha visto in testa il sindaco Castiglione l'assessore comunale allo spettacolo Gianvito Greco e Nino Centonze al cui seguito hanno sfilato diversi gruppi mascherati accompagnati da bande musicali in un vero e proprio tripudio di allegria e di colori special guest della serata sono stati invece i DJ Alex Lu DJ e Maximino X1 che durante tutta la manifestazione hanno fatto ballare la piazza con le hit del momento siamo davvero soddisfatti dichiarano il sindaco e l'assessore greco della risposta del pubblico che ha nuovamente decretato il successo di questa manifestazione a cui ci sentiamo profondamente legati Sarà nuovamente operativo a Marsala l'autovelox posizionato sulla strada statale 115 Marsala-Mazzara lo rende noto il comando della polizia municipale di Marsala che a riguardo ha emanato un apposito provvedimento di riattivazione dal prossimo 4 settembre del dispositivo di controllo elettronico della velocità lo scorso febbraio l'attività del dispositivo era stata sospesa su richiesta del sindaco Massimo Grillo ritenendo prioritario un piano complessivo di sicurezza stradale nel territorio nonché la necessità di dare maggiore evidenza alla funzione preventiva e non repressiva del dispositivo anche con il potenziamento della segnaletica fermo restando che il dispositivo di rilevamento della velocità ha il solo fine di indurre a moderare la velocità principale causa di incidenti stradali taloni anche mortali si ribadisce che l'autovelox sarà operativo sulla strada 115 anche nelle ore serrarie e notturne in entrambi le direzioni di marcia ieri sera grande successo a Mazzara per la prima edizione della festa del pescatore quattro chef si sono alternati sul palco di piazza Plebiscito per la realizzazione di quattro ricette realizzate con pescato locale il pubblico ha avuto l'opportunità di gustare direttamente sul posto le creazioni culinarie i protagonisti della serata sono stati gli chef Vito Russo accompagnato dal barman Francesco Margiotta lo chef Michele Ritondo la cicuoca Vita Maria Galfano ed il mastro cuciniere Peppe Giuffre lo spettacolo è stato presentato da Stefania Renda ed intervallato dalle divertenti performance del cabaretista palermitano Chris Klan la festa del pescatore coincide con l'avvio del progetto Blockchain Mare Nostrum ascoltiamo le interviste si Blockchain Mare Nostrum è un progetto tranfrontaliere Italia Tunisia io sono membro dell'ATS Mare Nostrum insieme alla cooperativa Tramontana è uno dei primi eventi che stiamo facendo l'abbiamo denominata festa del pescatore perché il progetto si rivolge proprio ai pescatori con la digitalizzazione dei processi tracciabilità e rintracciabilità del pescato quanto è importante oggi la tracciabilità del pescato? è importantissima perché oggi i consumatori sono molto più attenti quindi vogliono sapere cosa mangiano quando lo mangiano e la freschezza del prodotto questo permette il progetto tramite il QR code di poter avere certezza di cosa è stato pescato chi l'ha pescato fino ad arrivare nel piatto del consumatore in tutta sicurezza la zona del Vallo è sempre capitale della pesca in questo caso anche della pesca in senso lato perché non soltanto grande pesca ma qui oggi verrà valorizzato molto anche il pesce delle piccole imbarcazioni da pesca del nostro comprensorio è una prima edizione di questa amministrazione all'interno del progetto di blockchain noi siamo molto entusiasti e felici di parteciparci soprattutto perché sposa in toto la nostra filosofia sin da tanto tempo e quella della valorizzazione del pesce poco conosciuto e soprattutto anche della specificità del nostro mar Mediterraneo abbiamo preparato un piatto della tradizione trapanese che è molto famoso anche fuori da confini della città di Trapani e della provincia di Trapani è il couscous di pesce un piatto antico molto antico deriva appunto dalla tradizione tunisina il progetto che questa sera ci ha permesso di essere qui rappresenta proprio questo legame intanto buonasera a tutti ed è un grande onore essere a Mazzara del Vallo devo dire che per me esistono due tipi di contadini i contadini della terra e i contadini del mare il contadino della terra è quello che giornalmente si alza per andare a coltivare concimare e tirare fuori dei prodotti straordinari ma il contadino del mare è quello che si alza anche prima del contadino di terra va per mare e porta questo ben di Dio questi pesci pelagici che io amo tantissimo di cui uno è la sarduzza la sarduzza di Serinunte che stasera ho voluto gratificare con delle carotine fatte alla menta con delle patate origanate che a sua volta vengono accompagnate da una maionese alla menta e da una maionese all'origano ma Dulcis in fundo c'è un pezzo di storia che mi sta a cuore è il primo gelato della storia è la zucchina lunga fatta ghiacciata questa zucchina lunga che poi viene tagliata a fettine che è una zucchina che mi auguro che arrivi a zero gradi perché è congelata e quindi sopra viene messa la sardina quindi questo contrasto tra questo chiamiamolo questo boccone da gelato con la forza di questo pesciolino piccolo ma straordinario diventa un po' un apoteosi direi e non potevo esimermi gli ultimi tre fiocchetti di maionese mettere tre cucunci che per me sono come dire quella cosa che quando arriva ma questa cosa cos'è non è altro che il cappero che ha questo piccolo pistillo questa infiorescenza che per me è straordinaria è come dire mangiamo Sicilia questa sera invece a Casa Azul Caffè di Torretta Granito la presentazione del libro La Caduta eventi e protagonisti in Sicilia 1979-1994 di Calogero Pumilia l'autore ne parlerà con l'onorevole Calogero Mannino saluti del dottor Antonio Tulone presidente dell'associazione di promozione sociale Pro Gusto modererà l'incontro Marica Bonanno che abbiamo sentito ai nostri microfoni ascoltiamo l'associazione di promozione sociale Pro Gusto attiva in Sicilia in un vasto territorio che va dalla provincia di Trapani fino a Sciacca si fa promotrice di diversi eventi tra cui quest'estate di una rassegna letteraria dal titolo Storie di donne e uomini della prima repubblica questa sera l'ultimo appuntamento di questa rassegna che vede protagonista la presentazione del libro La Caduta eventi protagonisti in Sicilia dal 1972 al 1974 ne parleremo con l'autore l'onorevole Calogero Pumilia che dialogherà con l'onorevole Mannino su eventi che hanno riguardato la storia della Sicilia in quegli anni eventi che li hanno visti protagonisti eventi in cui la Sicilia si è misurata sempre più da vicino con la storia nazionale vi aspettiamo quindi stasera a Torretta Granitola presso il Casa Zul Caffè alle ore 21.30 chiudiamo con lo sport gioca bene le sue carte ma perde il primo appuntamento stagionale il Marsala di Totò Bruculeri è servito un gol di Bulades del San Vitolo capa circa 10 minuti dalla fine della partita per condannare il football club Marsala decretando in questo incipit di stagione la loro prima sconfitta in una gara ufficiale di Coppa Italia di promozione il match di ritorno sarà domenica 3 settembre Nino Lombardo Angotta ieri di scena il derby di Coppa Italia di eccellenza tra US Mazzara 46 e USD Mazzara vittoria esterna per 3 a 2 dei canarini di Mister Abbenati ascoltiamo e vediamo gli highlights e le interviste ed ecco che le due squadre lentamente si accingono a raggiungere il centrocampo il Mazzara calcio con la tenuta rigorosamente giallo-blu mentre il Mazzara 46 mantiene i colori sociali che diciamo ha sempre avuto ossia il giallo-rosso adesso lo riportiamo ciao Gerola ancora un applauso per Gerola che ci ha lasciato vi ricordo a 62 un pallone che viene controllato così così una fase di se così possiamo definire di studio da parte di entrambe le squadre e ha sbagliato e parte il tiro è il gol e c'è il gol del Mazzara per una grave per un grave errore da parte di Di Maggio attenzione a questa giocata Lentini in area di rigore tiro rete ed è al 46esimo che Lentini anzi 47esimo che Lentini raddoppia per una palla persa sul tre quarti campo tutto definato sulla sinistra attenzione sopra in area di rigore l'ultimo a toccare è stato il numero 5 Baiata e quindi c'è un calcio d'angolo per la formazione di casa perché questo derby nell'andata è Mazzara 46 contro Mazzara e allora sul pallone Licata ci sono ben sette giocatori del Mazzara 46 in area di rigore il pallone passa bellissimo questo tiro è gol no sì è arrivato al gol ha accorciato delle distanze la praticamente possiamo dire al primo minuto secondo minuto allora Noble Gomez viene in avanti salta un altro avversario ce ne salta un altro ancora entra in area di rigore ancora lui l'entrata è rigore il rigore è stato concesso non sull'uscita del portiere ma sull'entrata di Angileri vediamo se sarà capace di realizzare la terza marcatura prende la rincorsa tiro per un attimo aveva regalato l'illusione di prendere il pallone di maggio colui che ha dato diciamo molta tranquillità e sicurezza al centrocampo del Mazzara attenzione gol ancora Ortiz ancora Ortiz trova un gol un batti e ribatti in tribuna arriva anche nel frattempo il tipice rischio finale che serve per calvare gli animi di tutti i contendenti sia quelli in campo sia quelli fuori dal campo cioè in tribuna noi vi ringraziamo per il gentile ascolto prestatici è stata vi ripeto una bella gara le persone qui si sono divertite parecchio e posso garantirvi che fra l'altro anche l'affluenza di pubblico non è stata male perché contiamo circa 600 persone se non di più ma così a colpo d'occhio credo che siano 600 se non di più ben detto è un risultato importante poi tutto il resto da cancellare per quello che ho visto perché realmente non mi è piaciuto niente d'altra parte ho visto l'oro che era quello che mi aspettavo una squadra veramente forte veramente forte che se ci credono possono dare problemi sia la Nissa che cercano di vincere il campionato perché è una squadra veramente veramente forte con grandi qualità e gente che sa palleggiare gente che sa giocare a calcio e veramente complimenti per la squadra dell'USM a 047 noi ci alleniamo tutti i giorni per fare un certo tipo di calcio che è quello di non buttare la palla di uscire da dietro palla a terra di non avere paura di niente di attaccare alti abbiamo fatto tutto l'opposto abbiamo giocato di ripartenza che ci può stare però il problema è uno quando ho la palla sui piedi devo dare un po' di qualità e invece non posso dopo due passaggi perdere sempre la palla e rischiare di prendere ripartenza quindi realmente non mi è piaciuta la qualità la qualità di quello che abbiamo fatto a differenza di loro che ho visto quello che io volevo fare lo stavano facendo loro perché realmente come ho detto ci hanno grosse individualità quindi mi sono molto piaciuto loro ma sicuramente siamo partiti male abbiamo fatto degli errori per Mazzaro è stato bravo ad approfittare in tutte le azioni dei colleghi che ha fatto poi abbiamo cercato di costruire man mano andavamo avanti con la gara però sicuramente abbiamo sbagliato tanto loro sono stati bravi ad approfittare sugli errori nostri e si sono portati i tre punti a casa credo che non ci sia niente da recriminare lo svolgimento della gara è stata questa anche se oggi parlare di calcio mi è un po' difficile in dieci giorni ho perso due amici importanti calcisticamente uno stabile salvatore un amico carissimo di Marsala e Geronimo di Giovanni ho lavorato forse malissimo questa settimana perché mi mancano anche le forze però non diamo scuse a niente perché anche i giocatori miei devono capire che quando qualcosa va male devono anche aiutarsi tra di loro la accettiamo così è finita tra le due e abbiamo ancora la gara di ritorno non incominciamo a fare tanti blocami negativi oggi è andata così doveva andare così sicuramente molta colpa ce l'ho io perché magari ho parlato con le poco dalla panchina ero giù un po' moralmente per i fatti accaduti durante questi dieci giorni e quindi mi assumo le io le corpe però dobbiamo riprenderci dobbiamo giocare con la fame che ci ha distinto i due anni successivi dobbiamo essere umili e sicuramente dobbiamo essere più attenti a fare pochi errori perché avevo detto nell'intervista successiva al funerale dell'amico Gerolamo che il ricordo della sua morte doveva essere un inno alla vita un inno allo sport un inno al calcio penso che l'interpretazione di tutte e due le società l'interpretazione di tutte e due dirigenze soprattutto dei giocatori in campo ovviamente assieme a un grande pubblico che è stato assolutamente sportivo ha consegnato questo momento straordinario e quindi mi permetto di dire che oggi ha vinto la città bisogna fare i complimenti a tutta la la governance del Mazzaro QSD per tutto quello che hanno messo in campo per la prestazione per il risultato che hanno meritato che è stato costruito su alcuni errori nostri ma a livello tecnico siamo agosto c'erano 40 gradi non voglio accampare nessun tipo di alibi in Coppa Italia il verdetto finale sarà giorno 3 quindi lì poi commenteremo l'eventuale doppio confronto era questa la nostra ultima notizia odierna vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Tg8 Informazione vi ricordiamo come sempre che sul nostro sito di Tele8 e sulle nostre pagine Facebook Tele8 TV potrete restare in continuo aggiornamento sulle notizie dal territorio grazie a tutti Grazie a tutti.